So che è molto apprezzata in città, vedo che c'è una partecipazione sentitissima. Io purtroppo non ho avuto occasione di vedere i film e questo un po' me ne spiace, però succede spesso così quando fai un'anteprima e quindi sono fiduciosa. Insomma auguro tanta fortuna anche a questi registi, giovani e non, insomma che trattano anche argomenti probabilmente un po' come dire sempre difficili, insomma sempre che creano magari tanti fan ma anche tante persone che non sono molto d'accordo, quindi ci vuole comunque un coraggio che io ammiro e mi fa piacere essere qua come testimonial anche di questo coraggio.